Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti che hanno scosso le fondamenta, chiediamo il vostro sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana, si è recentemente consumato un doloroso addio. Un poliedrico talento, noto come attore, regista e scrittore, ha lasciato questo mondo, suscitando un profondo cordoglio in tutto il settore. Questo eclettico artista aveva anche abbracciato il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Sciacca, provincia di Agrigento. La sua presenza attiva e il suo impegno fervente hanno contribuito notevolmente a promuovere numerose iniziative culturali, rendendo la sua scomparsa una perdita insostituibile per la comunità artistica e culturale. La triste notizia della sua dipartita è giunta ieri, all'età di 76 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro una malattia che ha gradualmente minato la sua salute. Il suo percorso teatrale è stato semplicemente straordinario, catturando non solo il cuore del pubblico, ma anche l'attenzione di produttori cinematografici e televisivi di rilievo. Tra le sue molte interpretazioni di successo, ricordiamo la sua partecipazione alla celebre serie del Commissario Montalbano e il suo contributo in importanti produzioni cinematografiche, tra cui quelle di Ficarra e Picone, oltre alle opere di Pasquale Simeca, recentemente, l'artista aveva aggiunto una nuova sfida. Alla sua lista di talenti, intraprendendo la scrittura di un romanzo ispirato alla sua esperienza nel mondo dell'amministrazione pubblica, la sua perdita di Buincezzo Catanzaro rappresenta una notevole lacuna nel panorama culturale italiano. Ma il suo inestimabile contributo continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e l'indomito spirito con cui si è dedicato alla sua arte, in questo momento di tristezza, inviamo una preghiera o un messaggio di cordoglio ai suoi cari, lasciando un commento qui sotto, che condividono la pena per questa dolorosa perdita.